e bella sti ragazzi qua i reghi che vi parla oggi siamo qui tornati in questo mio noi siamo video oggi siamo qui come vedete su salva al mondo ma non tanto per portarvi dei truffato cioè per far gente ma per dirvi a voi raga di scrivermi sotto nei commenti raga mi raccomando ovviamente come avete letto in questo video mi raccomando arriviamo a 50 like per questo video 50 60 quanto riusciamo ad arrivare mi raccomando e scrivete sotto nei commenti i nomi dei truffatori raga mi raccomando dei truffatori che volete che io truffi e nel caso che io riesco a truffarli vi ridò indietro armi che vi hanno truffato ovviamente me lo dovete dire insieme all'id del truffatore che cosa abbiamo truffato così mi faccio scambiare le determinate cose e ve le potrò ridare quindi mi raccomando scrivete sotto nei commenti il nome e c'è l'id del playstation così gli mando l'amicizia e inoltre il che cosa vi ha truffato mi raccomando e in tanti mi raccomando veramente in tanti mi voglio sotto nei commenti io e cercherò di farli tutti vi mando la richiesta e niente spero come l'accettino mi raccomando sfolliciate se non l'avete ancora fatto iscriviti se non l'avete ancora fatta e commentate mi raccomando chiedere che è tutto ci vediamo con la prossima live o il prossimo video bella l'accetto bella l'accetto